Sono 70 i milioni di euro che la Regione Siciliana ha messo a disposizione per aprire e portare avanti nuovi cantieri di lavoro e di servizio. Nello specifico, l'iniziativa è dell'assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, guidato dall'assessore Marielle Eppolito. 50 i milioni di euro previsti per i cantieri lavoro, altrimenti per quelli di servizio, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento di alcuni aspetti della vita pubblica, come la pulizia, la scervatura, il rifacimento di marciapiedi e di alcune arterie stradali. Destinatari delle somme sono quei comuni che hanno una popolazione fino a 150.000 abitanti e che ovviamente dovranno presentare dei progetti al riguardo per accedere ai finanziamenti. Somme sono previste anche per quei comuni per i quali si è provveduto ad un finanziamento parziale nel 2014 per mancanza delle necessarie coperture e che adesso potranno avere tutti i soldi mancanti. Le somme assegnate saranno specificate in un decreto, mentre con un avviso saranno impartite le istruzioni per la redazione e la presentazione dei progetti esecutivi. Le gradatorie dei beneficiari saranno stilate dai centri per l'impiego e dai comuni, rispettivamente per i cantieri di lavoro e per i cantieri di servizio. Le risorse economiche che metteremo in circolo nell'economia povera della nostra isola, ha spiegato l'assessore Eppolito, intendono porre un freno all'emorragia occupazionale che grava tra le nostre popolazioni, oltre a dotare le realtà urbane di servizi e strutture. Invito i sindaci, conclude l'assessore, a far pervenire la propria istanza di manifestazione di interesse entro il prossimo 15 marzo al Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana, secondo le modalità già inviate ai comuni con un apposito comunicato. La lotta alla disoccupazione va combattuta anche con queste azioni non risolutive, che però offrono respiro all'universo degli inoccupati e dei disoccupati. Grazie a tutti.